Ciao ragazzi, c'è stato un avvistamento di Serenet in Italia, però questa volta fa veramente paura perché è stato ripreso nelle montagne che abbiamo qui in Italia. Ragazzi, mi raccomando, seguite tutto il video perché ho il video in edito, quindi mi raccomando, seguitelo tutto. Adesso comunque inizierò. Ragazzi, Serenet è una creatura che tutti di noi conosciamo. Serenet l'ho già portato veramente moltissimo nel mio canale. È un argomento che vi piace tanto, so che comunque vi piace tanto come creatura. Comunque prima di cominciare col video vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale, di guardare anche sotto in descrizione lo shop, il mio shop e ho messo anche dei prodotti Amazon che sono in offerta e che io vi consiglio, quindi vi consiglio pure di acquistare. Ragazzi, iniziamo subito con il video. Allora, prima di passare diciamo alla visione vi spiego un pochettino. Praticamente è stato avvistato questa persona, me l'ha mandato un utente, un mio iscritto su Instagram. Oppure se ragazzi, se volete mandarlo anche voi, cercate Instagram Mattimito oppure potete andare su informazioni del canale e mi mandate comunque una mail con la clip inedita che voi avete visto. Perché mi è stata mandata questa clip di questo utente che per privacy ha detto di non fare il nome, non so il perché, però comunque rispetto le sue scelte, ha detto di non fare il nome. Però comunque mi ha ringraziato, magari vi lascio anche qui la mail per chi magari non ci crede, vi lascio magari qui se mi ricordo. E diciamo che è stato veramente molto pauroso perché, allora, io non ho la certezza che sia stato veramente fatto da lui questo avvistamento, però se ne avete qualcuno ragazzi mi raccomando mandateli che comunque io ci faccio, diciamo, il video. E dopo potete anche magari essere menzionati sopra, diciamo, il video. Adesso ragazzi andiamo a vedere questo filmato, mi raccomando se tu stai guardando, che mi hai inviato questo video, mi stai guardando questo video, scusate il gioco di parole, lascia anche un bel like. Allora ragazzi, e commenta qui sotto che cercherò il tuo commento. Mi raccomando ragazzi mandate anche altri video alla mia mail personale che la trovate sulle informazioni del canale. Ok ragazzi, praticamente è stato avvistato questo Serenade, diciamo, in Italia. Più precisamente, da quel che vedo, è in Nord Italia. Infatti Serenade è una creatura che fa veramente paura perché, come sappiamo, c'è il Serenade alto, il Serenade basso, comunque ci sono tanti tipi di Serenade. E diciamo che quello che ha trovato è un Serenade di piccole dimensioni. Quindi suppongo sia un Serenade, diciamo, giovane per questo, un Serenade giovane. La cosa che fa più paura però è che questi qui, questi piccolini qua, non fanno, diciamo, del male alle persone. Il problema è che iniziano a far male quando diventano grandi. Va bene ragazzi, adesso vi lascio al video e dopo trattiamo un pochettino delle conclusioni. Ok, ragazzi, avete visto che fa veramente paura. Anche perché la clip sembra esserci comunque dei disturbi. Non so se avete visto anche voi, che comunque l'ho visto prima, che ci sono tipo dei disturbi nel video. Suppongo perché Serenade, quando si va a contatto vicino, va come effetto Slenderman. Non so se avete presente Slenderman, che ho fatto anche un video ieri, se magari se siete persi vi lascio qui sopra nelle info box. Fa veramente molto strano e fa veramente molto paura. Ragazzi, voi avete mai visto Serenade in vita reale? Perché se voi andate, per esempio, nelle montagne, anche, non so, nelle montagne comunque italiane, nelle Alpi, o anche negli Apennini, comunque, da quelle parti lì, si può trovare questa creatura. Perché comunque abbiamo visto anche, comunque, nel video che ho fatto tempo fa, due mesi fa, un mese fa, che se voi siete persi magari vi lascio una foto. E anche lì c'è stato il primo avvistamento. Quello era proprio il primo. Questo è un altro avvistamento. Come vedete, ragazzi, gli avvistamenti di Serenade, anche in Italia, stanno diventando veramente molto popolari. Ne stanno parlando veramente tutti, il che fa veramente molta paura, perché possiamo trovarcelo da un momento all'altro, in qualsiasi luogo. Questo, ragazzi, non va affatto bene. La polizia, comunque, non sa ancora niente. Comunque, perché ritengono che siano falsi questi video, vediamo in futuro come si proseguirà questa situazione. Speriamo che vada al meglio, perché sapete che avere a che fare con questa creatura è una cosa veramente paurosa. È una cosa che veramente nessuno ha voglia di fare. Però il lato, diciamo, positivo tra quei negativi, il lato positivo è che ora c'è stato solo qualche avvistamento nelle montagne, quindi nelle Alpi. In altre parti d'Italia, per adesso, ancora no. Però, ragazzi, mi raccomando, ditemi se avete visto magari qualcosa qui sotto nei commenti, perché questo, diciamo, vuole essere l'unico canale in Italia dove, diciamo, trova gli avvistamenti di creature pure qui in Italia. Quindi, ragazzi, cerchiamo di avvisare le persone di questa cosa che fa veramente molta paura, a mio parere. Ragazzi, siamo giunti anche alla fine di questo video. Io vi ricordo sempre, di iscrizione al canale, di attivare la campanellina e di lasciare un bel commento qui sotto per dirmi cosa potete vedere nel prossimo episodio. Perché questo abbiamo visto un avvistamento di Siren Head. Scrivetemi qui sotto nei commenti se volete vedere anche un avvistamento, che ne so, di Cartoon Cat, un altro avvistamento di Cartoon Cat, Long Horse, di Slenderman, Jeff the Killer. Comunque, tutte le creature horror, scrivetemele, qui sono i commenti che andiamo, diciamo, a vedere di che quale creatura possiamo trattare e possiamo, comunque possiamo e dobbiamo fare. Perché si iniziano ad esserci, come ho detto all'inizio, si iniziano ad esserci tanti avvistamenti di queste creature qui. Viene fuori un bel problema, perché questa creatura, o queste creature, possono mettere terrore alle persone e distruggere intere città. Come sappiamo, questi anni ultimi sono veramente molto difficili. Si dice che si stiamo avvicinando pure alla fine del mondo. Potrei fare un video anche a riguardo, ditemi cosa ne pensate, che comunque si può anche fare. Niente ragazzi, grazie per la visione di questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao!